Il presidente della Regione Toscana Eugenio Gianni ha consegnato il premio FSE Giovanni Sì alla band Anders nell'ambito del Rock Contest Computer Age Edition del 2020, organizzato da Giovanni Sì, Regione Toscana e Controradio. La premiazione si è svolta nel rispetto delle norme anti-covid al cinema La Compagnia di Firenze e la registrazione è stata trasmessa il giorno successivo sul canale Twitch del presidente Gianni, sulle pagine Facebook di Giovanni Sì del Rock Contest e di Controradio e sul canale YouTube di Regione Toscana e Controradio. L'evento si è aperto con un talk in cui si è parlato di libertà di espressione, creatività e protagonismo giovanile. Sul palco col presidente Gianni, anche la cantante Irene Grandi e l'attrice Gaia Nanni. Il Rock Contest è un'iniziativa, una manifestazione che davvero si accompagna a tanti anni, più di 30 anni e attraverso il Rock Contest abbiamo visto valorizzare artisti, gruppi come in questo caso gli Anders, che poi si sono affermati, sono stati simbolo della nostra regione. Il premio FSE Giovanni Sì, istituito nel 2017, è destinato al brano che meglio interpreta sensibilità e immaginari del mondo giovanile e finanzia con 3.000 euro un progetto artistico legato all'evoluzione musicale e professionale dell'artista o della band vincitori. Quest'anno è stato assegnato al gruppo fiorentino Anders per il testo Joshua, mi sento più al sicuro qui. La canzone parla di Joshua Wong, che era uno studente quando è diventato uno dei protagonisti delle rivoluzioni di Hong Kong per chiedere lezioni libere negli anni passati e è stato anche arrestato per il suo attivismo e ci piaceva vederlo come simbolo della necessità e del desiderio di partecipare, incontrarsi e anche disobbedire, in certi casi, rispetto a tutta la nostra generazione giovanile. L'edizione 2020 del Rock Contest si è svolta online, naturale conseguenza delle limitazioni imposte dalla pandemia di Covid-19. Il Fondo Sociale Europeo finanzia gli interventi per l'autonomia dei giovani che in Toscana sono promossi dalla Regione attraverso il progetto Giovani Sì. Ad oggi sono stati raggiunti 360.000 beneficiari.